Sono Cristina Tumiatti, sono tra le altre cose la presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Torino. Il comitato racchiude le più importanti associazioni datoriali e sindacati presenti sul territorio di Torino e quindi è già una rete incredibile, un laboratorio incredibile di competenze ed idee. Proprio per questo il nostro comitato punta tantissimo sulla potenza del networking. Per noi il networking è la possibilità di fare network e quindi di fare rete all'interno di una rete che non è soltanto territoriale ma è nazionale, proprio per poter scambiare progetti, scambiare idee e creare insieme progetti da poter rimandare sul territorio. Questa è un'attività ed è una delle attività più importanti che facciamo all'interno del comitato. Proprio per questo esiste un coordinamento a livello regionale dei vari comitati di cui noi siamo coordinatori a livello regionale, appunto organizzato da Union Camera e Piemonte e la cosa secondo me più importante è che abbiamo iniziato anche proprio a fare percorsi di networking a livello internazionale, proprio perché secondo noi fare rete è la creazione di qualche cosa di unico che ad oggi esiste veramente a livello limitato proprio sul tema dell'imprenditorialità femminile e proprio per questo dal 2019 abbiamo iniziato a partecipare ai lavori del network di AUVEC Foundation che è proprio appunto questa rete di imprenditrici presenti a livello internazionale.